salve oggi c'è vento e vorrei farvi vedere come il vento fa suonare le foglie che rivestono la parete della casa che è interamente verde e infatti si mimetizza con il resto della collina godetevela è un'onda bellissima grazie a tutti e per oggi dalla wind orchestra direi che è tutto arrivederci grazie a tutti grazie a tutti